Sono diversi gli sconfitti di questa campagna elettorale per quanto riguarda la rincorsa allo scranno di presidente del Consiglio regionale. Chi non ha ricevuto il consenso sperato come Donato Pica, chi pur di fronte a una pioggia di voti non è riuscito a entrare in Consiglio regionale come Simone Valiante. I grandi sconfitti ovviamente sono innanzitutto Caldoro e Cerambino surclassati dal nuovo governatore Vincenzo De Luca, anzi dal governatore confermato. Gli lettori hanno sempre ragione, non faccio come qualcuno a sinistra che quando perde dice che gli elettori non capiscono. Questo lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega per quanto riguarda la sconfitta di Caldoro. Tornando invece al Vallo di Tiano e al sud della provincia di Salerno, Valentino Di Brizzi non ha sfondato. Quando subisce una sconfitta politica non puoi che prenderne atto e accettarne le conseguenze, ha detto. Ho creduto con forza e convinzione in questa sfida. L'ho fatto spendendoci le mie energie grazie a quanti mi hanno sostenuto. La gente del mio territorio, concludo Di Brizzi, ha deciso di affidare ad altre mani il proprio destino. Complimenti sinceri a chi eletto dal popolo dovrà assumersi questa responsabilità. Abbiate cura della nostra provincia. Pochi voti anche per Donato Pica, sindaco di Sant'Arsenio che ha appoggiato la lista legata a Clemente Mastella. Ringrazio di vero cuore i coraggiosi che mi hanno concesso la loro fiducia. Evidentemente i venti sono cambiati e anche la politica è diversa. Di questo, doverosamente, devo prendere atto. Grande amerezza invece per Simone Valiante. Non è eletto nel PD, nonostante gli 80.000 voti di lista e i 12.000 voti personali. Un arresto altissimo di 35.000 voti mi tiene fuori dal Consiglio regionale per un sistema elettorale assurdo, ha detto Valiante. Non dimentico il consenso della mia terra e la grande fiducia che ha avuto nel tributarmi tante preferenze. Non avrò, ahimè, gli strumenti istituzionali per difenderla, ma sapete che sempre che ci sarò nelle nostre battaglie.